stai diventando grande sai io sono un bimbo di quattro anni o poco più esploro il mondo yokai ho sempre un gran da far guardo per imparar ciò che sta intorno a me guardo colori e insetti volar scoprirò il mondo con mamma e papà pian piano crescerò frettai io non ne ho gioco imparando io caio, 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 caio sono io dove abito io? guarda papà questa è la nostra famiglia bravo posso aiutarti? mi servirebbe un autista ti interessa la cosa? certo allora coraggio signora autista adesso punta verso quei fiori dove dovrò scaricare questo terriccio quelli laggiù papà quelli laggiù si oh oh sta attento perché qui non ci sono freni ciao caio vieni con me voglio farti vedere una cosa posso andare papà? ma si certo questa è una lettela per te c'è scritto caio qui soltanto che il numero della strada è sbagliato l'hanno mandata al numero 15 di via dei pini ma il 15 corrisponde a casa mia qual è il numero di casa tua? caio sapeva che anche la sua casa aveva un numero civico ma non ricordava quale fosse non lo so andiamo a vedere guarda c'è l'1 e il 7 quindi è il 17 guarda papà ho ricevuto una lettera ma davvero? è indirizzata al 15 di via dei pini quello è il mio indirizzo in 15 non si va in bici è un trucchetto per ricordarmi il numero è un'ottima idea lo sai caio tu ti ricordi qual è il nostro indirizzo? è il 17 di via dei pini ehi perché non usiamo un po' di fantasia anche noi? bubu 7 17 bene adesso vediamo il resto dell'indirizzo la mia famiglia vive al 17 che poi sarebbe il 24 meno 7 venite pure a trovarci sotto il sole del 17 scriviamo 17 sul tuo disegno ecco fatto adesso è proprio il completo ormai è tardi io devo andare ciao bubu 7 17 che poi sarebbe il 24 meno 7 7 il 17 i miei complimenti che cos'è? oh per caillou vediamo cosa c'è scritto guarda che bella cartolina allora tu sei invitato alla mia festa questo sabato pomeriggio alle 4 è un invito da parte di clementina evviva! una festa! io voglio andarci mamma! chiamiamola subito per farle sapere che ci sarai sì e dalle anche il tuo indirizzo giusto ecco tesoro ho la mamma di clementina al telefono dalle il nostro indirizzo ciao ecco bubu 7 17 e poi? quello è il numero ora dille anche il ah sì certo io sto al 17 di via dei pini grazie sì grazie signora ciao clementina allora sabato verrò alla tua festa il dinosauro perduto sei pronto tesoro? leo sarà qui a momenti arrivo arrivo caillou sarebbe andato a giocare al parco con il suo amico e voleva portarsi tutti i suoi giocattoli preferiti non puoi portarti tutta quella roba perché non ne prendi solo un paio? il dinosauro lascialo qui non vorrei che si sporchi al parco hai ragione guarda si chiama dino è davvero molto bello lo sai allora io ritornerò tra un paio d'ore vai pure ciao prova così andiamo sullo scivolo arriverò prima di te io non ci credo proprio è divertente dai arrampicchiamoci la caillou guarda caillou leo ormai è ora di tornare a casa no ma non è giusto pronto? via caillou si era divertito tanto con leo che voleva rivederlo al più presto senti vuoi venire a giocare anche domani? va bene domani mattina viene a trovarci la zia john ma io voglio giocare con caillou se credi potrai portarlo anche domani pomeriggio d'accordo evviva ciao poi abbiamo giocato con la sabbia e ci siamo arrampicati sul castello allora vi siete proprio divertiti pronto? oh ciao davvero darò un'occhiata in giro ciao era la mamma del tuo amico leo ha perso il suo piccolo dinosauro oh no tesoro perché non guardi se è finito tra i tuoi giocattoli qui non c'è sapeva quanto leo fosse legato al suo piccolo dinosauro lo avrà sicuramente lasciato da qualche parte ho un'idea l'ha sicuramente lasciato al parco e forse so anche dove possiamo andare a cercarlo mamma per favore tra poco farà buio credo che il vostro dinosauro dovrà aspettare domani ma Dino avrà tanta paura a passare la notte fuori da solo ecco forse si potrebbe fare una passeggiata subito dopo cena che dici? evviva qui non c'è papà non c'è dov'è che avete giocato? laggiù e qui io non lo vedo ormai sarà meglio rientrare e poi sta anche per piovere caillou era felice che il suo piccolo dinosauro fosse al sicuro in casa ma era molto preoccupato per quello di Leo adesso Dino si bagnerà tutto mamma forse qualcuno avrà pensato a metterlo al sicuro tesoro scommetto che Leo adesso sarà molto molto triste ho un'idea domani disegneremo un manifestino per chi può averlo visto e l'appenderemo nel parco l'idea della mamma tranquillizzò il piccolo qualcuno doveva per forza aver trovato Dino buonanotte e sogni d'oro l'indomani caillou disegnò un bel manifestino da appendere nel parco anche rosi grazie ecco fatto avete fatto veramente un ottimo lavoro adesso chiunque abbia trovato Dino potrà chiamare a casa di Leo oppure a casa nostra salve ragazzi posso aiutarvi Leo ha perso il suo dinosauro sul serio? tu l'hai trovato? no ma qui abbiamo anche un ufficio degli oggetti smarriti ti consiglierai di andare a vedere oggetti smarriti ma che cos'è? è un posto in cui si può lasciare qualunque cosa venga trovata nel parco perché sia restituita al suo legittimo proprietario così se perdi qualcosa quello è di sicuro il primo posto in cui andare a cercarla mi accompagni a vedere? ma certo ciao e grazie ma guarda quante cose si sono perse nel parco chissà quando verranno a riprenderseli i loro proprietari ciao io mi chiamo ciao io mi chiamo ciao io mi chiamo a Caillou era piaciuto tanto l'ufficio oggetti smarriti ma era deluso per non aver ritrovato il dinosauro di Leo dobbiamo andare è già ora di pranzo e tra poco arriverà anche Leo sì ma dove sta Dino a quanto sembra non è qui ma continueremo a cercarlo sta tranquillo eccolo qua guarda mamma io ho trovato Dino l'ho trovato Caillou era felicissimo di aver ritrovato il dinosauro del suo amico tadaaa Dino signora grazie per averlo ritrovato ma io non centro niente è stato Caillou lo sai tu sei davvero il mio migliore amico grazie adesso andiamo a giocare dentro io non credo proprio che Dino vorrebbe essere perso un'altra volta il fratello maggiore era una bellissima giornata estiva e Caillou stava giocando nel parco con la sua sorellina Caillou guarda che brava non ho più le rotelline che forza è stato Villa di insegnarmi è bello avere un fratello più grande lui mi insegna sempre tante cose anch'io insegno sempre tante cose a Rosie e cioè? provò a ricordare le cose che aveva insegnato alla sorellina ma non gli tornò in mente nulla è ora di andare ragazzi Caillou raccogli i tuoi giocattoli devo scappare ciao Clementina glielo allaccerò io in fondo sono suo fratello maggiore ben detto il nostro piccolo amico voleva insegnare qualcosa a Rosie così come Billy aveva fatto con Clementina vuoi imparare ad andare sulla mia bicicletta, Rosie? sì ecco, adesso spingi sui pedali dai che cosa stai facendo, Caillou? Billy ha insegnato a Clementina come andare sulla sua bici e io adesso voglio fare lo stesso con Rosie ci sono cose per cui Rosie è ancora troppo piccola tesoro proprio come è successo a te quando avevi la sua età no Rosie, non togliere i pezzi della ferrovia sta a vedere adesso, io ti insegnerò come si montano i binari, va bene? ecco, guarda caillou era fiero del fatto di essere riuscita a insegnare a Rosie a montare i binari del suo trenino e corse a dirlo alla mamma arrivo Rosie evidentemente non è ancora grande abbastanza per usare certi giochi coraggio ragazzi, il pranzo è pronto perché non le insegni come si mangiano gli spaghetti? Rosie, guardami allora, se ne prendono un po' con la forchetta e poi si arrotolano così spaghetti lo sai mamma, forse non sono un buon fratello maggiore non sono ancora riuscita ad insegnarle niente questo non è vero tua sorella osserva tutto quello che fai e cerca di imitarti e anche così che apprendono i bambini davvero? certo comunque ecco una cosa che puoi insegnarle che ne dici di quella canzoncina che cantiamo prima di andare a letto? A, B, C, D Rosie, adesso cantiamo insieme, d'accordo? si chiama la canzone dell'alfabeto A, B, C, D, E, F, G A, B, F, G, C A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G c'è riuscita bravo ma adesso non fermarti c'è ancora tutto il resto dell'alfabeto A, B, C, D, E, F, G H, I, M, M sempre in ritardo sveglia tesoro su, è già ora di colazione niente perdite di tempo stamattina tra poco abbiamo appuntamento al parco con Leo oh, arrivo bravissimo Caillou aveva intenzione di andare a fare colazione ma quando vide la sua macchinina preferita si fermò a giocare brum, 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 brum era quasi ora Rosie ha già finito di fare colazione dai a Rosie no adesso Rosie devo prima finire di fare colazione sarà meglio che ti sbrighi visto che devi ancora cambiarti e lavarti i denti con la sua macchinina nuova Caillou si stava divertendo talmente da dimenticare di lavarsi i denti caillou non sei ancora pronto tesoro caillou quel giorno non riusciva proprio a decidere quale maglietta mettere caillou caillou noi siamo già pronte arrivo il nostro piccolo amico trovò ogni genere di meraviglie sul percorso per il parco pubblico guarda un lombrico è carino non è vero ma adesso dobbiamo proprio andare non è giusto far aspettare Leo e la sua mamma li vedo eccoli la caillou si chiese perché Leo stesse uscendo dal parco ciao noi vi abbiamo aspettato a lungo ma ormai si è fatto troppo tardi mi dispiace molto per il ritardo ciao caillou forse ci vediamo domani ciao ecco ci hai messo talmente tanto a prepararti che non resta quasi più il tempo per giocare caillou rimase molto deluso per non aver potuto giocare con Leo allora sei pronto per la favola della buonanotte? santi papà stasera potresti leggermene tre di favole per favore io non so se sarà possibile ricordi che cosa è successo oggi con il tuo amico? dipende da quanto ci metterai a prepararti ho un'idea perché non facciamo un bel gioco? quando avrò rovesciato questa clessidra tu avrai cinque minuti per prepararti ad andare a letto prima che tutta la sabbia torni nel vasetto di sotto allora preparati pronti? via! caillou voleva che quella sera il papà gli leggesse tre favole ci sono riuscito sono stato velocissimo non è vero? proprio così caillou e per premio leggerò tre favole tutte in una volta era felice di essersi preparato in tempo per andare a letto mi è piaciuto tanto tanto quel gioco c'era una volta un bel bambino che si chiamava caillou caillou impiegava sempre molto tempo per fare le sue cose la giusta tutto a caillou piaceva molto il giorno del bucato perché tutta la casa profumava di pulito guarda papà Gilbert ti sta aiutando a ripiegare la biancheria scendi subito da lì quello non è il posto adatto a un gatto io so di aver messo due calzini nella lavatrice ora dove può essere finito l'altro? oh no neve guarda mamma così laviamo il bucato e il pavimento della lavanderia allo stesso tempo bene a questo punto forse sarà meglio chiamare un tecnico prima di lavare l'intera casa chiamiamo quel signore che ci ha già riparato l'asciugabiancheria il giorno seguente qualcuno bussò alla porta salve lei è Bob se non sbaglio è davvero un piacere rivederla e tu sei caillou non è vero? ti ricordi di me? io mi chiamo Bob e sono venuto a riparare la tua lavatrice ma la lavatrice non è mia è dei miei genitori comunque io posso fargliela vedere se vuole andava benissimo fino a ieri vieni caillou lasciamo Bob lavorare in pace non si preoccupi mi farà comodo un aiutante anche io ho gli attrezzi da lavoro torno subito va bene? lo sa che anch'io so riparare le cose? sono dei bellissimi attrezzi ma a me piace in particolar modo questa è una chiave spaccata lo sai a cosa serve? no serve a stringere i bulloni ora coraggio sali su questa sedia e ti farò vedere si prende il bullone con questa chiave e poi si gira così allora vuoi provarci tu adesso? ottimo lavoro adesso finisco io di stringerlo poi ci mettiamo su questa specie di cappuccetto e il lavoro è finito allora va un po' meglio adesso? l'ho aiutato io a ripararla papà è proprio così ho trovato questo attorcigliato intorno all'asse ah ecco il mio calzino mancante papà posso riparare qualcosa che si è rotto? aspetta mi servirebbe una mano a piantare questo chiodo nel muro coraggio adesso colpiscilo con il martello non troppo forte ottimo lavoro sai mamma prima ho aiutato quel signore a riparare la lavatrice poi ho aiutato papà con il chiodo grazie Caillou questo sgabbello non regge ma scommetto che potresti aiutare papà a ripararlo ecco fatto così sarà molto più stabile ma adesso manca la cosa più importante la colla vuoi pensarci tu? ma certo come va il nostro piccolo aiutante? è già riparato Caillou? si mamma guarda stavolta è stato papà ad aiutarmi sono bravo ma guarda stavolta è stato papà ad aiutarmi ma guarda stavolta è stato papà ad aiutarmi ma guarda stavolta è stato papà ad aiutarmi